Buongiorno a tutti, sono qui per ringraziare tutti e per presentare la mia candidatura alle elezioni europee. Sono entusiasta e molto contenta di questa opportunità che mi si è donata dal partito. Ringrazio il ministro Orlando per essere venuto a supportarvi e a darvi manforte. Ci tengo a sottolineare il fatto che io mi voglio candidare perché intendo portare una ventata nuova e del nostro territorio in Europa, cercare un pochino di rompere l'isolamento del nostro territorio e rappresentarlo al meglio soprattutto per quanto riguarda la tradizione della nostra città e di tutta la nostra regione. Siamo qui, siamo a Sanremo con Lucia Arbusi a sostenere la sua candidatura. Sanremo è una città europea, Sanremo è una città che è conosciuta in tutto il mondo e Lucia è il volto che vuole portare Sanremo a Bruxelles e a Strasburgo. Dobbiamo aiutare, abbiamo bisogno di giovani impegnanti in politica che si battano contro le discriminazioni, che si battano per difendere il proprio territorio. Votare per Lucia è un modo di far arrivare un messaggio forte, di sostenere il ponente ligure e di affermare un'idea della politica aperta al mondo e al futuro.